Era già stramazzato a terra sotto la violenza di decine di pugni. Eppure non hanno avuto pietà di lui. Uno dei tre rom gli ha inferto il colpo mortale con il tacco della scarpa. Un calcio violentissimo che gli ha fratturato la scatola cranica. È morto così Emanuele Fadani l'11 novembre scorso fuori dal pub Blackout di Alba Adriatica. Bisognerà chiarire a chi corrisponda la sagoma scura che sferra il colpo letale, ma Danilo Levakovic e Santespinelli continuano ad accusare il terzo rom, Elvis Levakovic. Il calcio, dato con così tanta violenza e ripreso dalle telecamere di sicurezza di una banca vicina, spazza via l'ipotesi di omicidio preterintenzionale. I tre, cioè, non volevano limitarsi ad una semplice aggressione, ma volevano di fatto uccidere Emanuele. Avevano dunque una volontà omicida, condizione che dal punto di vista penale peggiora notevolmente la loro situazione. E mentre si attende, a distanza di un mese, la consulenza del RIS di Roma sul video in questione, si fa strada a un'altra ipotesi. Nel mirino dei tre c'era Graziano Guercioni, l'uomo di Villa Rosa finito in ospedale, e la cui testimonianza non convince il PM che vorrebbe sentirlo personalmente. Alcuni dettagli, infatti, non trovano corrispondenza nel video, perché Guercioni non arriva a soccorso di Fadani. Mercoledì a Chieti, inoltre, si consumerà un incontro fra il PM Davolio e il medico che ha condotto l'autopsia sul corpo di Emanuele, il dottor Dovidio. Il primo che sostiene l'ipotesi del calcio al volto per il povero commerciante Albense, forse morto per salvare da un destino amaro l'amico Guercioni.